Chi non l'ha pensato come me è comunque qui Ma tu, chi non l'ha pensato come lei? Non pensa che sia un po' un sberleppo addirittura nei confronti di famiglia come quelle che abbiamo raccontato di Rosarno, di Varese No, io dico, io canto cose che esistono, c'è gente che sceglie queste cose poi se poi la loro vita è una provocazione nei confronti degli altri è la verità Però lei dice quindi, io canto, me ne ha fatte altre, no, di canzoni Facciamo sentire l'edepid di questo qua Non lo fate finiti